e bisogna dirlo, negli anni 90, ma bisogna riconoscere anche che quando abbiamo avuto una nuova occasione negli anni 2000 non l'abbiamo colta, abbiamo fallito e questo pesa ancora, è un handicap forte nella prospettiva di alternativa. E resta il fatto tuttavia che la destra governa il Paese in sette anni degli ultimi nove, anche se tende a farlo dimenticare con i suoi giochi di specchi, che non dobbiamo permetterli, e ancora la destra che ha governato sette anni su nove dice che non la si lascia governare, che ha bisogno di più poteri e come li cerca questi maggiori poteri? In chiave di un rafforzamento ordinato della funzione di governo? Forse così si potrebbe discutere. No, la cerchi in chiave di plebiscito, ma in quella chiave più potere significa meno decisioni, perché quella chiave, l'abbiamo detto tante volte, usa il governo per il consenso e non il consenso per governare. Insomma, io voglio dire che sta maturando uno scarto fra berlusconismo e realtà economica e sociale che Berlusconi non può affrontare per il verso giusto. L'abbiamo visto nelle cronache anche, subito dopo le elezioni, è un dilemma anche per lui. Se lo dicono le cronache, lui vede bene che dovrebbe decidere qualcosa di significativo sul fisco, sul lavoro, sull'impresa. Lo sa anche lui, come lo sappiamo noi, che questi sono i punti numero uno nella percezione degli italiani. Ma nelle compatibilità stringenti che ci sono, lui non può su queste scelte mettere il segno più. Deve dirimere, dovrebbe decidere. E questo rompe il giocattolo, rompe il meccanismo. Ed eccolo quindi sospinto a ribaltare il tavolo, a raffigurarsi eternamente come oggetto, lui, della contesa, a usare perfino le leggi ad personam non solo nell'interesse suo, ma anche come elemento di distrazione di massa da temi che non riesce ad afferrare. E quindi ad evocare sempre un decisore immaginario, diciamo, in una chiave populista. E quindi io dico, resta vero che Berlusconi non può indicare un futuro positivo, credibile per il Paese, e resta vero che questo contiene un rischio che dobbiamo attrezzarci a contrastare, perché è un rischio reale e presente. Ora, un Paese senza decisioni arrettra fino al rischio di oscurare il senso di fondo dell'unità della nazione. Ci sono tutti gli indicatori, lo dicono e lo dicono in modo, guardate, preoccupante. Di vari sociali, territoriali, di standard civili, stanno crescendo. Come ovvio nella crisi prendono piede dei meccanismi cooperativi, ma come meno ovvio abbiamo un governo che li incoraggia, li produce, ne fa una politica, un modello. E è sempre più difficile ad ogni livello, ad ogni dimensione, configurare dei meccanismi collettivi, coesivi, di risposta al problema. Io non faccio l'elenco degli esempi di quello che sto dicendo, che potrebbe essere chilometrico. Ecco, invito solo a pensare a un paio di cose. Primo, all'enorme gravità di una crisi radicale dell'unità sindacale, nel pieno della più grave recessione del dopoguerra, fatto gravissimo. E, d'altro lato, la forbice, nord-sud, economico, civile, culturale, che si sta allargando. E' un divario che sollecita degli scenari politici nuovi, nel momento in cui la Lega si affaccia con una sua proposta nazionale, che è una proposta vagamente di tipo confederale, che può benissimo rispecchiarsi in un riciclaggio di classi dirigenti meridionali, che possono invocare una retorica autonomista, in un meccanismo che si limiterebbe, si limiterà ad interpretare il divario e non più a cercare di chiuderlo. Ora, dicevo, senza decisioni arretriamo. C'è bisogno di farla lunga. Noi in pochi anni perdiamo cinque posizioni nell'area euro per pil pro capite. Non so come vogliamo chiamarlo. Io non sono per metterci nella discussione se sia declino o no. Io lo chiamo scivolamento perché non voglio, diciamo così, evocare termini un po' metafisici. Ma il dato c'è, è impressionante. Questo significa una rinunzione dei redditi, che investi i certi medi. E se vogliamo una raffigurazione reale, plastica, senza scomodare tanti indicatori della serietà di questa prospettiva, noi la possiamo trovare nella perdita di orizzonte della nuova generazione. Questo è un tratto veramente drammatico. Noi abbiamo un balzo al 28%, dal 20% che era soltanto un anno fa, della disoccupazione giovanile. Sono percentuali sconosciuti all'Europa. Le puoi ritrovare nel Maghreb. In più c'è una qualità del rapporto tra giovani e lavoro e la possibilità o meno di darsi uno scenario di vita. Che sta sfumando. Ora, e mi fermo qui perché in quella condizione giovanese c'è il riassunto di tutti gli indicatori che potrei elencare. Teniamo anche conto che questo quadro corrisponde inevitabilmente a una perdita di ruolo del Paese, la dimensione europea e internazionale, non solo a questione delle barzellette di Berlusconi o del folklore negativo che ci fa danno. C'è un processo reale di riduzione di peso, di ruolo, che è il riflesso di nostre debolezze e di questo scivolamento. Ora, qui c'è un punto. Questo scivolamento ha radici lontane, certamente. Ma noi possiamo immaginarci, sto parlando dei prossimi mesi, un anno, due anni, possiamo immaginarci uno scenario in cui per via spontanea le cose in qualche modo possono migliorare. Non pare. Noi fin qui abbiamo fatto un'analisi corretta della crisi. Noi dall'inizio abbiamo detto, ricordate, abbiamo avuto anche delle discussioni, anche noi, la crisi sarà lunga. Non è vero che stiamo meglio degli altri, perché la crisi su di noi incombe poggiando su problemi strutturali precedenti. E quindi, una fase di sostanziale stagnazione con colpi ulteriori alla occupazione e con una criticità della finanza pubblica, cioè un avvitamento di questo genere, non è solo un rischio, è allo stato dei fatti una ragionevole previsione. Allo stato dei fatti è una ragionevole previsione. Ora, se questo è il quadro, e questo è il quadro, certamente possiamo capire meglio, secondo me, il montare di elementi di disaffezione e la cosa che dicevo, cioè il fatto che sul lato centro-destra si comincia a percepire un elemento di distacco inadeguatezza e dal lato nostro non emerge una prospettiva ancora di alternativa. E si può capire anche come emergano elementi di spaesamento nelle forze sociali e perfino in quelle che possiamo chiamare classi dirigenti. Io non so chi di voi abbia assistito al convegno di Confindustria, io ne ho visti tanti, per ormai sarà il decimo che vedo, è abbastanza impressionante. L'elemento che definirei dispaesamento. Cioè una perdita d'orizzonte che ti fa applaudire chi dice che c'è il declino e applaudire anche chi dice che chi non c'è, che non c'è. Allora, io in questo quadro non ho fatto cenno fin qui, ma voglio farlo, agli elementi di vitalità nel paese che ci sono, di cui abbiamo purtuttavia segno, perché noi, se anche qui guardiamo,